Il 9 novembre 1989 cadde il muro di Berlino e a 30 anni di distanza quell'evento storico è stato fatto rivivere a Sondrio dai protagonisti dell'epoca nell'incontro ospitato in sala consigliare a Palazzo Muzio con una folta presenza di studenti delle scuole superiori. In cattedra il cardinale Giovanni Battista Re che si è soffermato sul ruolo svolto dalla Santa Sede e da Giovanni Paolo II, Gilberto Bonalumi sottosegretario agli esteri del governo De Mita, Deglia Campanelli e Fabio Molinari rispettivamente direttore dell'ufficio scolastico regionale e provinciale di Sondrio. In collegamento video Enrique Baron Crespo, presidente del Parlamento europeo dall'89 al 92. E' un evento che ha avuto un rilievo mondiale, grande evento, gli alunni che erano presenti nessuno di loro era allora nato e quindi è giusto che conoscano la storia e certo questo è un evento che ha segnato la storia del secolo scorso, ha segnato il tramonto di un grande impero. La caduta del muro è stata una concatenazione di eventi positivi? Sì, certamente, questa caduta improvvisa perché prima non era prevista, è stata preparata da una serie di circostanze soprattutto dall'affermazione dei diritti umani e una serie di coincidenze ha fatto in modo che avvenisse questa caduta del sistema sovietico. E' molto importante che i ragazzi vivano, anche se di riflesso, la storia, una storia in cui loro ancora non c'erano ma che oggi è stata raccontata da persone che all'epoca hanno vissuto politicamente o con la Santa Sede un evento così importante. Sono poi momenti di riflessione in classe con l'opera somma dei loro docenti per capire, per approfondire, per far sì che eventi come questi insegnino. Com'è nata l'idea di questo convegno? L'ufficio che ho il piacere di dirigere ama un po' inseguire gli anniversari. Abbiamo deciso di lavorare sul muro di Berlino attraverso momenti di confronto con gli studenti e quello di oggi è il primo perché poi avremo il piacere di ospitare anche il presidente Valuenza a maggio. Oggi un bel convegno con delle relazioni eccezionali e anche relatori che hanno vissuto in qualche modo in prima persona queste vicende che ormai hanno 30 anni.